Ma dove guardo? Guardo dritto? Ah, guardo avvertuto. Prima mi è andata benissimo. Anche a me al microfono se ci dice nome, cognome, ruolo. Silvia Bertellini o Stetrica? Ci racconti cosa è successo. Allora, ero in piscina ieri con mio figlio, giornata di ferie, tranquillissima, seconda giorno di ferie. Stavo aspettando che mio figlio scendesse da uno scivolo e vedo questi ragazzi che si stanno facendo notare perché c'è un bambino a pancia in giù, senza che non si muove. E quindi di conseguenza, prima pensavamo stesse giocando, tipo a trattenere il respiro, cose che fanno i bimbi solitamente. Però poi l'hanno mosso, non si muoveva, allora ho detto di tirarlo su. Un ragazzo più grande, probabilmente un educatore di un altro centro estivo, l'ha tirato su e il bambino era completamente senza sensi. Io lo faccio venire velocemente sul bordo piscina, mi sbraccio verso gli assistenti bagnanti della Copernuoto. Nel frattempo mi porgono il bambino, lo appoggio a bordo vasca, vedo che non ha movimenti respiratori, è totalmente privo di sensi, labbra viola, provo a sentire la giugolare ma nella concitazione del momento ho fatto fatica, tra schizzi, acqua, urla. Ho iniziato la respirazione bocca a bocca, da lì ho visto che buttava fuori acqua dal naso e dalla bocca, quindi ho proseguito e nel frattempo, tra una pausa, tra una manovra e l'altra, mi sbracciavo per far venire il più veloce possibile i bagnini. Dopo varie respirazioni ho iniziato col massaggio cardiaco, dopodiché sono subentrati i ragazzi della Copernuoto che prontamente hanno iniziato anche loro le manovre di BLS, quindi sono stati veramente bravi, tempestivi, forse colti un po' alla sprovvista perché insomma è un momento sempre un po' difficile e niente, io sono andata a ricercare mio figlio che nel frattempo era sceso dagli scivoli ma ne avevo perso le tracce perché comunque tra il delirio generale avevano fatto uscire tutti i bagnanti dalla piscina, quindi fuori nel giardino. Cerco il bambino, torno a vedere come era messo questo piccolino, aveva aperto gli occhi, aveva aperto la bocca, quindi aveva già i suoi movimenti, era vigile. Gli tasto il polso per vedere se era bradicardico o quant'altro, poi dopo lascio fare a loro, torno all'ombrellone con il mio figlio che era super agitato e quindi lo tranquillizzo, ritorno perché insomma mi interessava come stesse questo piccolo, nel frattempo era arrivato il 118 con l'infermiere credo e l'autista, il bambino intanto era già sulle ginocchia dell'assistente bagnanti, era vigile, era tranquillo. Il bambino però so che non ha sei anni ma è ancora più piccolo, ha quattro anni, quindi anche lì le dinamiche non si possono sapere, però io ringrazio ancora e lo dico questi ragazzi che non si sono disinteressati della cosa, ma si sono sbracciati in tutti i modi per farsi notare, per far vedere che c'era un bambino comunque rivolto verso il basso che non si muoveva in acqua, quindi la collaborazione è stata fondamentale, la tempestività pure e niente, per fortuna è andato tutto bene e tutto è bene quel che finisce bene insomma. Ecco diciamo che è stato fortunato il bimbo in questo caso perché c'era lei che è di esperienza, ma quanto è importante quindi conoscere le manovre di primo soccorso quando poi possono succedere episodi di questo tipo sempre? È fondamentale conoscere le manovre di primo soccorso, ma è fondamentale anche mantenere il sangue freddo, perché i ragazzi della Coppernuoto erano preparatissimi sulle manovre, però in quel caso c'ero io, c'era tanta gente, molta confusione e magari non c'è potuto essere un'immediatezza, anche se si parlava di secondi, comunque, anche se in questo frangente magari i tempi risultano dilatati dalla percezione personale, però sono stati comunque tempestivi. E ringrazio veramente, cioè è stato fondamentale che tutti, dai ragazzini all'educatore che ha tirato sul bambino, dico mi perché parlavo io, insomma, me l'hanno portato, le mie manovre subito e poi le manovre immediate dei ragazzi della Coppernuoto che, ripeto, erano preparatissimi a riguardo, erano organizzatissimi, sapevano cosa dovevano fare, quindi bravi tutti, brava la collaborazione e voglio specificare in non disinteressarsi delle cose, in un mondo dove viviamo al telefono, i ragazzi sono tutti al telefono, guardano il loro mondo, il loro singolo, mentre in questo caso, appunto, c'è stata un'unione, l'unione fa la forza sempre e io spero che tutti i giovani vengano sensibilizzati, ecco perché ci tenevo tanto a sottolineare questa cosa. Infatti ho ringraziato personalmente questi ragazzi. Ma se lei non... Di fianco al bambino comunque c'era l'educatore del centro estivo, insomma, che ha indicato, cioè chi ha tirato sul fisicamente il bambino. Era un educatore che era lì, non era l'educatore di quel bambino particolare, c'era uno degli educatori, ci saranno stati 7, 8, 9, 10 centri estivi con altrettanti educatori, quindi... L'hai fatto il messaggio, no, la respirazione bocca bocca e ho iniziato il messaggio. Gli operatori della Coppernuota invece con anche... Hanno continuato. Hanno continuato, senza defibrillatore. Ok. È stato tutto, scusate, il massaggio cardiaco e respirazione bocca bocca alternato come deve essere. Poi il bambino si è ripreso in pochi cicli comunque, quindi... Se lei non fosse intervenuta cosa sarebbe venuto? Sarebbe intervenuto qualcun altro poco dopo sicuramente, però non era facile vedere il bambino, tra persone in piedi, persone che scendevano dagli scivoli, confusione, perché era una giornata, io non lo sapevo, ma era una giornata di centri estivi, mi hanno detto poi le mie amiche mamme il martedì, quindi c'era veramente confusione. È un bambino che galleggia in mezzo a tante persone, un po' in piedi, un po' chi si tuffa, non è semplicissimo da vedere, nonostante che i bagnini fossero sempre attenti, sempre vigili. E anche di essere fatta, aveva bevuto probabilmente? Sicuramente bevuto, perché ha espulso una quantità di acqua esorbitante, io però non ho la più palida idea, perché un bambino così piccolo, 4 anni, non credo sapesse nuotare, però lì non posso esprimermi. Ecco, sulle cause si è fatta un'idea? Non ne ho la più palida idea, non ne ho la più palida idea. Purtroppo sono cose che possono essere, può essere anche una congestione. Un po' sbilenca, diciamo, ci hanno detto che era stato defibrillato tre volte, che poi stava bene, non è andato neanche in ospedale. Io non ho visto nessun defibrillatore, io ho visto che si è ripreso appena hanno terminato il terzo ciclo di rianimazione cardiopolmonare, quindi con respirazione e massaggio cardiaco. Aveva gli occhi aperti, muoveva la bocca, quindi voleva interagire, era spaventato, era molto spaventato, aveva gli occhi sbarrati. Poi gli abbiamo parlato, dopo io, come vi dicevo, mi sono allontanata perché dovevo gestire il mio bambino che era in panico totale, che mi ha riproposto tutta la scena in maniera un po', insomma, piangeva per me, perché ero preoccupato per me. Grazie. Prego. Ma c'è l'ultimo. L'esperienza tua di professionista appunto all'interno del Policlinio, quanto è servita a questa situazione? È stata fondamentale, è stata fondamentale perché io parto da, sala parto tanti anni e sala operatoria con emergenze urgente ostetrico-ginecologiche e l'ossiettrice è una delle branche con più emergenze che ci siano in generale nella medicina, quindi magari sono anch'io come persona, Silvia Bertellini, una persona abbastanza fredda in queste cose, però è stato fondamentale, credo. Poi, ovviamente, se non ci fossi stata io, i ragazzi della Coppernuoto sarebbero intervenuti diversamente e sarebbe andato diversamente tutto, quindi non si può mai dire se non ci fossi stata o se... Comunque, per fortuna è tutto bene. Perfetto, grazie.